Non è una finale ma è come se lo fosse l'avversario, la Sampdoria è stato il primo di Mignani all'esordio sulla panchina delle Palermo e in quella occasione il 2 a 2 per il tecnico di Genova contro una squadra di Genova ha significato l'inizio di un nuovo viaggio verso quello che viene rappresentato come un sogno impossibile, non soltanto dai tifosi delle Palermo. Forse dalla stessa squadra, da quei giocatori che non hanno creduto nell'obiettivo promozione sino in fondo, prima con la gestione Corini e poi anche con Mignani. Ma i playoff, si sa, sono un campionato completamente a parte dove i valori vengono appiattiti, dove quello che è successo durante la stagione regolare non conta più. Conta soltanto avere il vantaggio di giocare la partita del primo turno in casa davanti a un Barbera che verosimilmente sarà ancora vicino al tutto esaurito con due risultati su tre da giocare. Il pareggio consentirebbe alla squadra di Mignani di passare il turno dopo i 90 minuti, dopo anche i supplementari. Non ci saranno rigori così come non è previsto dal regolamento ma vale il miglior piazzamento in classifica. E la stagione regolare ha detto che il Palermo è arrivato al sesto posto e la Sampdoria invece al settimo. Dunque, mentre per i ragazzi di Andrea Pirlo bisognerà ottenere una vittoria al Barbera a tutti i costi per andare avanti ed affrontare il Venezia, a quelli di Michele Mignani potrebbe anche bastare il pareggio. Ma attenzione, proprio questa mentalità ha spesso portato il Palermo a subire le delusioni più grandi. Dunque, che si giochi per vincere anche se potrebbe bastare il pareggio. Grazie a tutti.